Le top 5 etnie preferite in ambito femminile. Questo video nasce per il fan di nome Francesco, ossia De Combattive qua su YouTube, il quale ha partecipato a Deo Mio primo raduno qua a Roma. Due di recente ha donato soldi, ha donato pecunia, di conseguenza mi sento obbligato a realizzare questo video per lui. Quindi, caro Francesco, eccomi a te. Allora, quali sono le mie top 5 delle etnie, per quanto riguarda preferite, del mondo femminile? Tu sei stato chiaro ed io, in maniera altrettanto chiara, ti vado a rispondere. Dicendoti che cosa? Che alla quinta posizione, quindi, le donne e le ragazze che proprio non vanno bene per me, dal punto di vista personale, ci metto come etnia, ovviamente, le americane. Le americane non mi piacciono, sono sincero, non hanno quelle caratteristiche adeguate per me, possono andare bene dal punto di vista forse estetico, ma eticamente parlando, caratterialmente parlando, li trovo molto molto sbrigativi, dal tempo stesso fredde, grossolane. Va bene? Al quarto posto ci sono le donne, diciamo così, russe. Ok? Sono affascinanti le donne russe, quindi non è che stanno nella posizione minoritaria. Però non sono proprio al top di gamma, va bene? Le donne russe perché? Perché sono belle dal punto di vista estetico, dal punto di vista anche sessuale, ti sanno appagare bene, ti sanno veramente mandare in paradiso, no? Ti fanno toccare il cielo con un dito, però, oltre all'ambito sessuale, fisico, estetico, non hanno altro, secondo la mia opinione. Invece bisogna andare a guardare anche dell'altro, se dell'altro c'è, se dell'altro esiste. Va bene? Questo è il fatto. Va bene? Esteticamente sono belle, sì, sono affascinanti, ripeto, hanno una bellissima pelle chiara, soda, hanno un corpo fantastico, in genere hanno dei tratti del volto angelicati, sono bionde e hanno gli occhi azzurri, ok? Quindi per questo mi piacciono molto, va bene? Però non sono le mie preferite. Al terzo posto, Carlo Francesco, abbiamo le italiane. Gli italiani non sono al top di gamma. Gli italiani sono belle, sono affascinanti, hanno per esempio molta sensualità, però sono anch'esse, insieme alle americane, piuttosto fredde. Sono grossolane. Un'italiana non si metterà mai nella condizione di chiederti come stai, se sei da solo, se vuoi fare conoscenza con lei. Sarà sempre sulle sue, sulla difensiva l'italiana. Secondo me, sia ben chiaro, è una mia opinione. Lo devo specificare perché qualcuno mi ha detto, devi specificarlo, bene? È la mia opinione. Ok? Gli italiani sono belle, sono affascinanti, però fredde come le americane. Se vedo un ragazzo che sta per conto solo, non è che attaccano un bottone, si mangono lì dove stanno, noi ne frega nulla, basta che possano curare loro stesse e stop. Va bene? Questa è la mia opinione. Al secondo posto invece ci metto, come top di gamma, diciamo così, le donne rumene. Comunque le rumene, sì, sono molto simili alle uraene, quindi quelle dell'Ost Europa, ok? Quindi sono molto... Però diciamo che non hanno... Che diciamo che hanno molta sensualità, molta femminilità, ok? Mi fanno impazzire le rumene. Mi lasciano molto. Mi trovo molto sexy, molto audaci, molto intriganti, capaci di eccitare l'uomo, il ragazzo, che dirsi voglia, e sono veramente capaci di portarti in paradiso, in ambito sessuale, intimo, va bene? E poi sono anche abbastanza calde, partecipanti. Certo, puoi trovare anche una ragazza, diciamo così, fredda, mi segui. Però, in fin dei conti, sono ragazze che ci stanno e, soprattutto, sono dal punto di vista estetico molto gradevoli. Al primo posto ci sono due posti, caro Francesco, e sono le brasiliane e le cinesi. Perché sia le brasiliane che le cinesi sono, dal punto di vista... Parlo soprattutto alle cinesi, dal punto di vista etico perfette. Sono dolci, sono deregheisce in piena regola, ok? Sono molto servizievoli verso l'uomo, molto partecipanti, partecipative. Si mettono in condizioni di soddisfare l'uomo dal punto di vista intimo, sessuale. Ma anche a livello mentale sono abbastanza brave. Esteticamente non sono il top di gamma, non sono tutta questa bellezza, va bene? Però, dal punto di vista, credimi, diciamo così, psicologico, etico, sono tanta roba, va bene? Sono comunque ragazze che hanno un certo cervello, una certa etica, va bene? Questo è il fatto. Per quanto riguarda la sfera, chiamiamola, di bellezza, le brasiliane sono meglio delle cinesi, va bene? Quindi ci metto le brasiliane a piano posto, medaglie d'oro, insieme alle cinesi. Dal punto di vista etico, le cinesi sono perfette. Dal punto di vista estetico sono carine, non sono bellissime, ok? Però sono comunque piacevoli, molto servizievoli, molto oneste, molto prove. Le brasiliane sono stupende dal punto di vista estetico, sono sexy, sono affascinanti, sono calde, sono carismatiche. Ci metto, permettimi di dirlo, anche le colombiane. Colombiane, brasiliane e cinesi. Cinesi dal punto di vista etico, caratteri alle perfette, magnifiche. Le brasiliane, come sebbene, un bellissimo lato B, sexy, affascinanti, calde, carismatiche, aperte. Anche le colombiane, mi piacciono perché sono belle, sexy, affascinanti e sono molto aperte, va bene? Gli italiani, dal punto di vista estetico, sono belli, gradevoli, capelli lunghi, favolosi, però a punto di vista estetico non vanno, non vanno per me. Carattere ha significato etico, ok? E le altre te l'ho detto. Spero che sia stato chiaro con te. Fisicamente ti piacciono molto, le rumene mi piacciono molto da punto di vista estetico perché hanno comunque diventi interessanti. Le russe hanno in genere gli occhi azzurri, i capelli biondi mi piacciono da punto di vista estetico. Per questi tratti che hanno del loro corpo, del loro fisico, della loro estetica, va bene? Detto ciò, grazie a tutti, grazie a te caro Francesco De Combacti qua su YouTube. Grazie per aver donato, spero di essere stato adeguato e di aver risposto e aver soddisfatto la tua richiesta. Che mi auguro sia stata soddisfatta in maniera completa e soprattutto totale. Grazie a te, D'Aleandro, conoscitore italiano di YouTube Italia e tutto. Iscrivetevi al canale, commentate, grazie caro Francesco per aver donato, ti ricordo con grande piacere, ti porto nel cuore, un saluto a te e al prossimo video. Ciao!